Oggi arrivano altre risorse importanti, 4.162.000 euro per le aree interne del territorio provinciale, 17 comuni ne potranno beneficiare ma la notizia vera è che tutto questo è grazie al lavoro che è stato fatto da UPI che ha permesso di ottenere questo fondo complementare a valere sui fondi PNRR non dimenticando che questi fondi non prevedevano risorse per le strade. Altra cosa che va evidenziata è che la provincia sarà l'ente di coordinamento e di governance di questo procedimento, quindi a testimonianza del grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni ma soprattutto di una provincia che ha ritrovato autorevolezza e centralità. La provincia sarà l'ente che dovrà attuare questa misura con tempi certi e veloci. Oggi iniziamo con l'assemblea dei sindaci, ringrazio tutti i primi cittadini oggi presenti, inizieremo a confrontarci ma soprattutto a mettere in campo i progetti più importanti e pronti per essere realizzati. Dentro il 31 dicembre dovremo inviare tutto al Ministero e quindi iniziare in questi importanti investimenti sul nostro territorio. Ricordo come dicevo appunto 17 comuni ne potranno beneficiare per avvicinare questi comuni delle aree interne alle altre città della nostra provincia. attraverso una serie di investimenti che riguarderanno le strade, la messa in sicurezza ma soprattutto migliorare l'accesso ed avvicinare appunto questi comuni all'intera provincia di Frosinone.